Buonasera a tutti, benvenuti al primo appuntamento della settimana, appuntamento serale, dove nella prima seduta della settimana le borse europee chiudono senza una precisa direzione. Ovviamente i riflettori sono tutti puntati sulla questione relativa all'Iran e sulla Libia. Per quanto riguarda la situazione legata alle prime indicazioni in arrivo dall'euro-dollar, ovvero la major più importante, al momento non c'è una grossa movimentazione, si mantiene sui valori di venerdì, precisamente a pochi punti, di sopra 1,11. Lieve calo dell'oro che scende a 1.552 dollari longe, mentre invece prevalgono le vendite al momento sul petrolio che si spinge in area 58,35. Andiamo a vedere come hanno chiuso le principali borse europee, con i DAX che chiude a meno 0,26%, IBEX altrettanto, CAC di Parigi meno 0,02%, FUZI Londra, l'unica piazza finanziaria europea che chiude a più 0,39%, con ed il FUZMIB che chiude a meno 0,52%, andando a chiudere con la peggiore performance della giornata. Dati negativi in arrivo dalla Gran Bretagna con la produzione industriale che ha registrato nel mese una discesa dell'1,2% rispetto al fronte del 0,4% del mese precedente. Anche per quanto riguarda la produzione manufatturiera, che su base mensile anch'essa registra una flessione dell'1,7% dopo lo 0,5% del mese di ottobre. Sempre dalla Gran Bretagna scende il deficit complessivo della bilancia commerciale, il disavanzo si porta a meno 5,5 miliardi di sterrine nel mese di novembre, dal rosso di 10,9 miliardi del mese di ottobre. Questa è stata l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna. Bene, invece domani, martedì 14 gennaio, abbiamo due dati in arrivo dalla sessione americana con l'indice dei principali prezzi al consumo di dicembre alle ore 14.30 e poi alle 22.30 avremo le scorte settimanali di petrolio. Bene, detto questo, passiamo invece ai movimenti più importanti della giornata, dove praticamente abbiamo visto che per quanto riguarda Euro-Dollaro abbiamo una situazione dove le quotazioni sono rientrate al di sopra, però si mantengono, vedete, all'interno della fascia 1.11.42 falso movimento, in questo momento si sono appoggiati sul livello annuale proprio a 1.11.423 che al momento, vedete, c'è questa leggera flag, leggera correzione con la movimentazione che al momento rimane sempre in ottica settimanale ribassista. quindi andremo ad analizzare anche domani se ci saranno altre situazioni bearish. Pentre invece, per quanto riguarda altre operazioni, stellina dollaro della nuova Zelanda, GBB New Zealand, chiusi due target, un'altra operazione ancora a mercato, eccola qua, prima operazione alla V18 chiusa esattamente ad 1.95, quindi praticamente prima operazione chiusa stamattina a 100 punti, poi seconda operazione, un'altra sell chiusa a 135 punti, quindi andiamo a vedere anche lo score su stellina dollaro a Nuova Zelanda, la V18, eccola qua, 135 punti di profitto, poi abbiamo un'altra operazione, la V25 chiusa totalmente a 110 punti, poi stellina dollaro canadese, quindi operazione V08, raggiunto il primo target a 1.69,80 a 45 punti, dove poi abbiamo anche l'altra operazione che si trova a 90 punti di profitto, ancora a mercato. Mentre invece abbiamo anche un'altra stellina dollaro australiano, l'operazione V29, che si è chiusa a 200 punti, quindi è entrata direttamente a mercato il 7 gennaio. Al momento abbiamo 1.686 punti, peccato per euro dollaro, che praticamente però è meno 20 punti, quindi per due meno 40 punti, l'unico stop loss, però 4 risultati utili positivi, importanti della giornata. Per quanto riguarda invece la situazione legata al Dow Jones, l'operazione di oggi, se è la mercato, abbiamo subito spostato lo stop loss a brecchino, in quanto siamo subito andati in positivo, però si è chiuso a parità, quindi situazione al momento in 303 punti, per quanto riguarda la situazione legata agli indici, fino alla data odierna. Per quanto riguarda invece altre operazioni interessanti, beh, al momento abbiamo ancora un altro target, eccolo qua, un'altra operazione, sempre su stellina dollaro, che in questo momento siamo a 120 punti, con un target a 1.9320, a pochi punti, al di sopra il supporto a 1.9310. Mentre invece, per quanto riguarda stellina dollaro australiano, ingresso a mercato, ingresso quasi chirurgico a mercato, eccolo qua, vedete, quindi praticamente il prezzo che è andato a ritornare, è ritornato un secondo pullback di fila sulla trend line ottica H1, e l'abbiamo sfruttata per poter entrare, proprio vedete, qui ingresso proprio chirurgico, e in questo momento stiamo a 60 punti di profitto, con lo stop loss a breakeven, quindi questa è l'ultima operazione della giornata, inserita proprio alle ore 16, scusami, alle ore 15 e 54, quindi pochi minuti prima delle ore 16. Mentre invece, per quanto riguarda, andiamo a vedere anche altre operazioni, allora, stiamo aspettando, su stellina dollaro, andiamo a vedere anche il cable, il cable possibilità, eccolo qua, sotto testa e spalla, abbiamo un testa e spalla, quindi un breakout sotto 1,2963, 1,2960, potrebbe aprire altri spiragli ribassisti, poi abbiamo, per quanto riguarda, altre operazioni che ancora abbiamo a mercato, abbiamo tutte operazioni positive, outcard, 30 punti di profitto, eccolo qua, quindi che ci lascia alle proprie spalle il supporto di prezzo a 0,8978, con le quotazioni che piano piano vanno a movimentarsi su, poi abbiamo anche per quanto riguarda USDCAD, USDCAD, andiamo a vedere, allora, USDCAD, al momento stiamo sulla parità, quindi al test, vedete, rimbalzo il buy limit, proprio al test di 1,3040, a livello di prezzo, da qua, potrebbe partire il movimento al rialzo, anche per quanto riguarda, dopo USDCAD, abbiamo anche auto SD, anche auto SD, si trova in profitto, di un 27 punti, punti, eccola qui, quindi, anche qua, un pullback sul pivot settimanale, è da qua, quindi abbiamo il primo target, posizionato, pochi punti sotto al livello, alla resistenza di prezzo, 0,6930, ovvero, precisamente, a 0,6925, secondo target, 0,7075, mentre invece, USDJPY, siamo entrati, abbiamo un sell limit, abbiamo inserito stamattina, un sell limit, sul USDJPY, USDJPY, che in questo momento, si sta portando, un po' più su, però, diciamo, vediamo un attimo, quello come chiude stasera, però stiamo, l'unica operazione, che sta andando, in, abbiamo il loss, a meno, 23 punti, poi, andiamo a vedere invece, altri scenari, interessanti, allora, dopo, stellina dollaro, il cable, test e spalla, euro dollaro, australiano, andiamo a vedere la situazione, su euro dollaro, australiano, dove, da questa zona, potrebbe partire un long, vediamo un po' quello che succede, aspetto, altre indicazioni, da parte del prezzo, poi, dopo euro dollaro, australiano, euro franco, euro franco, già stamattina, stavamo, analizzando la situazione, e su euro franco, vedete, praticamente, è andato a rimbalzare, proprio sul 50, 61,8, al momento, non, ho, aspetto, quindi, l'ingresso al mercato, perché aspetto, appunto, il breakout, su quest'altra zona, su questi massimi, esattamente, il prezzo che, va a spingersi, un po' più su, quindi, di una trentina di punti, neanche, 25 punti, che va a liberarsi, da questa zona, quindi, da qua, potrebbe partire, una movimentazione long, con un primo target, di 68, 70 punti, secondo target, di 190 punti, poi, stellina dollaro, australiano, stiamo a mercato, stop loss, a break even, e anche, stellina dollaro, della nuova Zelanda, per quanto riguarda, invece, le due, commodity, abbiamo, il gold, che, in questo, momento, il gold, vedete, è una zona di congestione, quindi, aspetto, ancora, setup, di ingresso al mercato, sopra, questa zona, si va long, qua sotto, si va sell, però, ovviamente, in questo momento, diciamo, non ho, dei riscontri, né long, né short, siamo in una fase di congestione, mentre, invece, per quanto riguarda, il US crude, di sell, su US crude, anche qua, positivo, in questo momento, stiamo a 34 punti, stop loss, a break even, anche in questo, in queste circostanze, vediamo un po', se riesce, a chiudere, sotto il 58,64, a livello annuale, da dove, diciamo, ci potrebbe dare, qualche altra spinta, ribassista, bene, per stasera, è tutto, grazie mille, per, grazie mille, per, per le vostre, per il numero, sempre crescente, di, di follower, ed, ci aggiorniamo, quindi, domani mattina, con la seconda, diretta live mattutina, alle ore, 8 e 30, buonasera, a tutti,